Solo nell'ultima settimana sono state controllate 3.340 persone e 467 esercizi commerciali di questi tre sanzionati. Un centinaio invece le multe elevate ai cittadini che non avevano rispettato le restrizioni anti-Covid. Nei guai anche il gestore di un bar della frazione Pare di Valmadrera, dove i carabinieri nelle scorse ore hanno accertato a notte tarda, intorno a mezzanotte, ben oltre il coprifuoco, la presenza della titolare che consentiva la consumazione a tre avventori. Tutti sono stati contravvenzionati ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni, dal 30 marzo al 3 aprile. L'azione delle Forze dell'Ordine sarà rafforzata in vista delle festività pasquali. La decisione è stata presa nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Particolare attenzione sarà rivolta a piazze, parchi, scali ferroviari, spiagge, alle vie e alle zone maggiormente frequentate, dove potrebbero crearsi assembramenti. Previsti anche interventi straordinari, mirati, in aree e zone sensibili, interessate da fenomeni di criminalità e massima attenzione alla verifica del rispetto delle disposizioni inerenti all'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi di ristorazione. Concorreranno ai controlli anche la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria. Dopo oltre un anno di restrizioni, stiamo tutti sperimentando una sensazione di sfidimento che rischia di renderci meno attenti al rispetto delle regole, spiega il prefetto di Lecco Castrese De Rosa. Una risposta prevedibile e naturale a uno stato di crisi prolungata della salute pubblica, soprattutto perché la gravità e la dimensione dell'epidemia da Covid-19 hanno richiesto l'adozione di misure invasive con un impatto senza precedenti nel quotidiano di tutti, compreso di chi non è stato direttamente toccato dal virus. Per questa ragione è fondamentale non arretrare di fronte al rispetto di regole e comportamenti che soli possono farci uscire da questa emergenza. Finora è stato riscontrato grande senso di responsabilità. Continueremo nei controlli, ma sempre con grande equilibrio.